Buonasera amici azzurri, è sempre forse a me schiettava dei rumpendini, è una volta! Ah tu stai nei rumpendini, ah tu stai nei rumpendini, chi non salta i rumpendini, eh? Eh! Chi non salta i rumpendini, eh? Eh! Chi non salta i rumpendini, eh? Eh! Ma tu stai partito un culo e io fornì, è una partita eterna! Abbiamo schiattato! Comunque, con Napoli, con Napoli a mio avviso ha giocato una grande partita, anche la Juve ha giocato bene, dobbiamo essere sportivi! Ma la chiama il 15 minuto, eh? Che c'è questa volta, non ce la faccio più! Ma poi la raga diventerà tutta azzurra, perché vuoi che fai sfilà, sti rumpendini si chiamenta! Forza Napoli a Juve, perché dottorietti, a munenza si chiamenta! No, ma io non lavo, ma io merito...